Una grande voglia di essere informati ma facendoli in modo diverso dal solito. Che cittadini più consapevoli di quello che accade siano anche cittadini più liberi dimostrano di saperlo bene i giovani delle scuole superiori e dell'università che vicino a Siena nel convegno organizzato dall'osservatorio permanente e giovani editori hanno discusso con i direttori delle maggiori testate italiane del presente e soprattutto del futuro dell'informazione nel nostro paese. I ragazzi chiedono però che i giornali cambino, il che non vuol dire per forza che si sforzino di assomigliare al web ma questo sì che semplifichino il linguaggio, che scelgano un mix di argomenti in cui sia meno presente la politica chiacchierata e che acquisiscano maggiore indipendenza dal potere, anche quello economico. Viene fuori da questo convegno una generazione che ha voglia di sapere e che non si accontenta di saperne sempre di più ma vuol capirne sempre meglio. E questo penso sia un bene per il futuro del paese e per il futuro della democrazia.